Ciao a tutti amici di Spazio Games, io sono Giorno ed oggi cominciamo a parlare un po' di The Division. The Division è un gioco un po' anomalo, osannato da tutti durante le 3 del 2013, posticipata per ben due volte l'uscita fino a marzo del 2016, dove purtroppo fece fiasco. All'uscita il gioco era pieno di bug, glitch, l'endgame era praticamente inesistente, insomma chi più ne ha più ne metta. Questo ha portato gli sviluppatori che sono sempre stati presenti durante tutta la vita del gioco, facendo degli stream settimanali per aggiornare i giocatori sullo stato del gioco, a prendere una decisione drastica. Hanno selezionato dei giocatori che avevano partecipato ad un questionario, li hanno portati nei loro studi per sviscerare i problemi del gioco e capire quale fosse la strada migliore da intraprendere. Sicuramente una mossa forte soprattutto la decisione di ritardare l'uscita di contenuti nuovi a discapito di una patch, la 1.4, che rimettesse il gioco a posto e riequilibrasse il tutto. Questo successe soltanto in parte anche se mise le fondamenta per dove è il gioco adesso. Nel 2018, a quasi due anni di distanza, The Division è tornato a splendere grazie all'ultima patch, la 1.8, che ha ridato vita e soprattutto equilibrio ad un gioco che sembrava ormai perso. L'endgame ora spazia tra il PvE, il PvP e le attività da fare sono tante e diversificate, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Anche per chi ama gli RPG normali ci sono le quest ed una su tutti c'è anche una missione segreta. Messa a sorpresa all'interno dell'ultima patch e nessuno se l'aspettava, molto difficile da capire fino a quando un ragazzo su Reddit non ha sentito un codice morsa all'interno di alcune registrazioni e scoperto delle coordinate. Ma non spoileriamoci tutto perché in questo video andremo a vedere come completare questa missione e quindi ricevere in cambio delle ottime ricompense. Allora, la missione segreta si trova all'interno della nuova area del West Side Peers, l'ultima arrivata nella patch 1.8 e non servirà comprare nessun DLC perché anche la nuova area sarà aperta a tutti. Come vedete nella schermata del vostro personaggio tra le prove ce ne sono due che sono bloccate, la trasmissione Shade 1 e la trasmissione Shade 2. Questi sono gli step necessari per attivare la missione segreta. Per sbloccare la prima trasmissione Shade 1 bisognerà entrare nella nuova modalità Resistenza. Questa modalità è disponibile nella nuova area in tre diverse località, la portaerei, il molo 93 e la centrale elettrica. Questa è una modalità orda quindi necessita di una squadra e di una build aggiornata per poter resistere alle diverse ondate. Questo perché dovremmo arrivare almeno a 15 e bisognerà farlo in tutte e tre le location per sbloccare il primo pezzo della quest. Alla fine della quindicesima ondata, nell'ultimo posto dove faremo Resistenza, riceveremo una missione secondaria che vi porterà di nuovo al rifugio di Camp Clinton. Qui parlerete con un NPC che vi sbloccherà la registrazione. In questa registrazione si sente un messaggio di aiuto con dei BIP sotto. Ecco, quei BIP in realtà è un codice MORS ma lasciamolo un attimo lì perché ci serve un'altra trasmissione da sbloccare, lo Shade 2. Per sbloccare la seconda trasmissione è decisamente più semplice della prima. Basterà raccogliere tutte le registrazioni presenti nella nuova zona del West Side Piers. Fortunatamente qualcuno si è adoperato nel creare una mappa per rendere questa operazione più semplice. La mappa è questa ed in più lasceremo anche un link nella descrizione del video per tutti voi che volete scaricarla. In tutto questa operazione richiederà un'oretta, un'oretta e mezza circa. Più che altro perché in questa zona i nemici hanno gli spawn completamente random e quindi mentre raccogliamo una registrazione sono capaci di sblocarci alle spalle. Quindi fate molta attenzione. In queste registrazioni troveremo delle conversazioni interessanti tra agenti traditori, Aaron Keener che è il cattivo del gioco ed altre persone che fanno parte della trama sempre del gioco. Quindi da un certo punto di vista, anche se è una cosa un po' ripetitiva, sarà sicuramente interessante da ascoltare. Una volta finite tutte le registrazioni sbloccheremo anche la trasmissione Shade 2. Riceveremo lo stesso messaggio di tornare al rifugio e così potremo ascoltare un altro messaggio di soccorso con all'interno sempre questo codice MORS. Ma cosa contiene questo codice MORS e come lo utilizzeremo? Per completare la fase successiva abbiamo bisogno di una squadra da 4 persone. Della squadra non tutti devono avere per forza fatto i due step che abbiamo spiegato prima ma ne basta uno solo al suo interno che li abbia sbloccati. Allora le prime coordinate dello Shade 1 indicano 3, 9, 6, 1, 9, 75 e andando con il cursore sulla mappa indicano la X sul primo molo vicino a Camp Clinton. Questo è il punto in cui dovrà aspettare il primo giocatore. Le seconde coordinate sono 784, 2242 e si riferiscono alla discoteca. All'entrata sud della discoteca dirigetevi a destra e troverete la X vicino a questo tavolo. Questo è il posto del secondo giocatore. Il terzo dovrà mettersi invece a 640, 2515. All'interno di questo garage vicino alla pompa di benzina c'è la terza X. Attenzione a questo posto perché i nemici sono tanti. Rimane un quarto giocatore spaiato. Per il momento può rimanere di fronte alla porta che si trova in un vicolo all'incrocio tra la 57esima e la decima. Questo per verificare se il tutto è andato a buon fine. Una volta che tutti sono in posizione non bisognerà fare altro che stare sopra le X e spingere il tasto di interazione. Quindi quadrato per la Playstation, la X per l'Xbox e la F oppure qualsiasi altro tasto che avete bindato per la versione PC. Questo va fatto nell'ordine in cui ve l'ho mostrati. Quindi prima quello sul molo, poi quello in discoteca e infine quello nel garage. Ad ogni interazione sentiremo un suono di conferma e se il tutto è andato a buon fine sopra la porta si accenderà la luce. Quindi il quarto giocatore vedrà accendersi la luce sopra la porta. Bene, fatto questo possiamo passare al secondo punto e non bisognerà fare altro che la stessa operazione ma con altre tre coordinate della trasmissione Shade 2. Le prossime coordinate sono 663-2247 e si riferiscono ad una X sopra al tetto di questo parcheggio per i taxi. Le seconde sono 980-2400, anche queste sono sopra al tetto di questo palazzo della cera, semplice da raggiungere perché c'è una corda per salire. Il terzo e ultimo posto è 610-2120, proprio di fronte all'ingresso della porta aerei, svoltate subito a sinistra per trovare la X accanto a questi barili. Una volta in posizione anche qui non dovete fare altro che interagire in quest'ordine, quindi il tetto sopra al parcheggio, il tetto del palazzo cera ed infine vicino ai barili. Il quarto giocatore in questo ultimo step deve trovarsi davanti alla porta perché dovrà interagire per aprirla quasi subito, altrimenti bisognerà fare tutto da capo. Una volta aperta la porta, gli altri giocatori possono usare lo spostamento rapido per spostarsi appunto vicino al quarto giocatore, per poi poter entrare tutti insieme nella stanza. All'interno troveremo un computer con il quale potremo interagire che ci farà sentire un'altra registrazione con un messaggio di aiuto interessante che vi lascio scoprire direttamente a voi senza spoiler. Cosa importante, finalmente finita la registrazione riceverete le vostre ricompense. Una cassa speciale con un bel esotico assicurato, una cassa top secret dentro la quale troveremo sicuramente un pezzo di equipaggiamento classificato che sono i pezzi più forti nel gioco in questo momento ed infine una cassa normale con al suo interno delle armi personalizzate con delle skin che però non sono interessanti a parte l'estetica. Questa missione naturalmente non si potrà fare più di una volta a meno che non abbiate altri personaggi, in quel caso sì, quindi diciamo che in tutto si può fare un massimo di 4 volte se avete tutti i personaggi belli pronti. Io spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile, se così è stato lasciateci un like e fateci sapere nei commenti qui sotto se avete ulteriori domande riguardo questa missione e magari diteci cosa avete droppato di buono. Alla prossima!